Confermo l'impegno a sostenere la ricostruzione della Basilica di San Benedetto a Norcia, che spero possa essere completata il più rapidamente possibile. E' quanto ribadisce il Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, in una lettera alla Presidente della Regione Umbria, Katiusce Marini, che all'indomani dei gravi eventi sismici aveva a sua volta scritto al Presidente della Commissione per chiedere un impegno diretto dell'Unione Europea e per la ricostruzione post-sisma, ed in particolare per la Basilica di San Benedetto, simbolo dell'Europa. Nella lettera Juncker scrive di aver seguito con molta preoccupazione le notizie relative ai terremoti che hanno coinvolto le regioni del centro Italia e ribadisce vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite. Quanto all'impegno dell'Unione Europea per la fase di ricostruzione, il Presidente della Commissione scrive che i servizi della Commissione Europea hanno già preso contatto con le autorità italiane per discutere le misure che potranno essere finanziate attraverso il Fondo di Solidarietà e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, che potranno fornire, aggiunge, un aiuto concreto per la ricostruzione, la messa in sicurezza degli edifici pubblici e rilancio delle attività produttive.